Valdichiana, buonasera e benvenuti alla seconda puntata di Giardino Valdichiana, il programma dell'estate della Valdichiana. Ancora qua in diretta dall'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile, che ringraziamo per l'ospitalità e perché ci aiuta nella messa in onda di questo bellissimo programma. Vi abbiamo detto che quest'anno è un'edizione all'insegna delle novità. La prima ve l'abbiamo già fatta vedere la scorsa puntata ed è la location, appunto ci ospita l'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile all'interno della fortezza di Montepulciano recentemente restaurata. La seconda novità è che voi purtroppo non li potete ancora vedere perché sono dietro le quinte che stanno curando la regia. Sono i ragazzi di Lightning, ovvero Francesco Paterni e Luca Farini, che forse da qui alla fine dell'edizione 2017 ve li presenteremo. Loro sono una bella realtà attiva da qualche anno nella Valdichiana, perché la Valdichiana ovviamente è in continuo fermento, da dei professionisti ad altri professionisti, professionisti del teatro e della regia. Qua con me questa sera c'è Laura Fatini, regista della compagnia Arrischianti di Sartiano, che ci è venuta a raccontare che cosa sta succedendo in questi giorni a Sartiano, ovvero uno spettacolo teatrale, molto rumore per nulla, che va in scena nella bellissima Villa Fanelli di Sartiano. Anche questo un gioiello recentemente restaurato e appunto aperto proprio per l'occasione. Allora Laura, molto rumore per nulla, ma mi sa che il rumore ne fate tantissimo. Parlaci un po' di questo spettacolo. Ieri, 13 luglio, è andata in scena la prima rappresentazione. Raccontaci un po' che cosa sta succedendo. Sì, dunque, come ogni anno, diciamo, è il sesto anno che gli Arrischianti vanno a fare il teatro al castello, definiamo. Quest'anno non è propriamente il castello perché siamo ospitati dentro la Villa Fanelli che la famiglia Morgantini ci ha messo molto gentilmente a disposizione. La Villa non è completamente restaurata, però tanta era la voglia di poterla utilizzare come location che abbiamo deciso di poterla utilizzare come ambientazione di questa tragica media di Shakespeare. Mauro Morgantini e i figli sono stati così gentili da venirci ad aprire tutte le prove, chiudere dopo le prove. Insomma, avere una compagnia teatrale che prova nella propria Villa non è una cosa così semplice. È un mese più o meno che facciamo più o meno mezzanotte tutte le sere. E quindi sì, come al solito, facciamo più che molto rumore per nulla a Sarteano durante l'estate. Torniamo con uno spettacolo classico, dopo aver fatto degli spettacoli che venivano fuori da dei libri, e quindi non propriamente spettacoli teatrali, la drammaturgia comunque la facevo io. Quest'anno mi occupo personalmente della regia, di questo testo che è molto conosciuto, magari un po' misconosciuto perché tutti pensano che sia una commedia brillante, e in realtà anche una parte un pochino più amara. Però, insomma, non voglio svelare troppo le carte. Ecco, questa rappresentazione rientra nel calendario degli eventi del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, che tra l'altro parte questa sera, venerdì 14 luglio, qua da Montepulciano, e appunto molti spettacoli si dislocheranno in tutto il territorio. Voi siete una compagnia di 20 attori e tecnici. Che cosa vuol dire, che cosa significa impegnarsi in cultura in un territorio come la Valdichiana, anche perché voi siete un gruppo molto attivo, molto coeso, anche durante le stagioni teatrali fate molto, lavorate molti spettacoli. Dunque, la compagnia degli Arrischianti ha più di 30 anni, e quindi nell'arco di questi 30 anni siamo stati molti più che 20. Diciamo che siamo 20 quest'anno all'interno dello spettacolo, tra artisti e tecnici, tra attori e costumista, regista, assistente alla regia. In più abbiamo l'incursione di 25 ragazzi danesi del Music Group and Theatre del Ragnarock, diretti da Francis Pardeyan. E quindi alla fine siamo 42 persone in scena. Ma gli Arrischianti sono abbastanza abituati a questo, sebbene sia una cosa molto difficile creare un gruppo coeso che porti la giusta energia in scena. Perché gli Arrischianti per tutto l'anno fanno formazione, quindi laboratori teatrali per bambini, per adulti. Facciamo anche degli stagi internazionali, ultimamente ci siamo aperti anche all'Europa. Facciamo parte di un progetto internazionale di Erasmus+, che si chiama The Complete Freedom of Truth. Quindi siamo riusciti a portare a Sarteano 120 ragazzi ad aprile, tra i 16 e i 20 anni. Quindi sì, lo spettacolo del castello è un po' la ciliegina sulla torta di ogni anno. È una cosa che ci piace fare proprio perché riusciamo a mettere insieme sia i ragazzi che fanno i laboratori, sia gli attori più di esperienza. In questi 30 anni abbiamo la possibilità e la fortuna di lavorare con attori che hanno frequentato dei palchi molto importanti. Quindi abbiamo anche Maria Pina Rui, poi abbiamo Gianni Poliziani, Francesco Storelli. Sono tutte persone che amano mettersi in gioco e dare una mano a questi ragazzi che si stanno formando in questa carriera di attore. Ecco, quest'anno al castello avete portato Shakespeare, dopo Alice nel paese delle meraviglie, Moby Dick e il giro del mondo in 80 giorni. Perché siete proprio ricaduti su Shakespeare? Ricadere su Shakespeare è sempre una cosa bella, quindi avercene di queste ricadute. La linea direttiva del teatro al castello è proprio andare su un testo classico, riscoprirlo e fare in maniera tale che il grande pubblico, perché poi alla fine riusciamo a interessare circa 600 persone di pubblico, se non piove abbiamo otto repliche, quindi più o meno... Ecco, ci sono anche gli orari, perché è una novità, un cambio di orario... Sì, lo spettacolo va in scena, la prima c'è stata ieri dalle 22 a Villa Fanelli, oggi e domani, che è sabato, sempre alle 22. La domenica andrà in scena alle 6 e mezzo del pomeriggio, perché la Villa Fanelli è meravigliosa, con la luce naturale, e quindi quest'anno abbiamo voluto iniziare questo esperimento, diciamo, di portare lo spettacolo al castello nella domenica il pomeriggio, anche perché c'è ombra, è abbastanza fresco, quindi questo ce lo possiamo permettere. Gli stessi orari andranno anche la settimana prossima, quindi dal 20 al 23, il giovedì, il venerdì e il sabato, sempre alle 10, e la domenica alle 6 e mezzo. Dunque, dicevo di ricadere su Shakespeare, in realtà noi abbiamo debuttato con Aristofane, poi siamo andati avanti con la tempesta di Shakespeare, e poi abbiamo cominciato con Alice nel Paese delle Meraviglie, poi abbiamo fatto Moby Dick e lo scorso anno il Giro del Mondo in 80 giorni. Di solito la scelta dei testi è fatta da me, Gabriele Valentini, che quest'anno è diventato anche presidente degli Arrischianti, che insomma, dopo Maria Pinaruio, che è stata presidente per circa 30 anni, non è facile prendersi questo compito. Quindi scegliamo noi il testo, perché poi siamo noi registi, quest'anno sono io la regista, lo scorso anno ha fatto lui la regia del Giro del Mondo in 80 giorni. Quindi scegliamo dei testi classici, perché l'ambientazione è classica, il castello, oppure la villa o il bosco del castello, però gli diamo un taglio moderno, gli diamo un taglio nuovo, una drammaturgia nuova, perché non è così scontato poter vedere degli spettacoli con tanti personaggi. Purtroppo la situazione del teatro italiano è quella che è, e quindi siamo sempre più abituati a vedere monologhi, al massimo dialoghi, con scenografie ridotte al minimo. Noi, avendo questi straordinari volontari che hanno una qualità artistica straordinaria, possiamo permetterci di mettere in scena anche 42 attori e di provare con un po' di ambizione a lavorare sui classici. Per adesso ci è sempre andata bene, quindi speriamo. Un successo che voi avete riscontrato anche quest'inverno nella stagione teatrale appena conclusa. Una stagione teatrale, appunto, che tu hai detto c'è stato anche dei cambiamenti, Gabriele Valentini è l'attuale presidente, mentre tu sei diventata vicepresidente. A questo punto viene da chiedermi, oltre a, brevemente, facendo un bilancio della stagione appena conclusa, che cosa si, quale sarà l'inverno del teatro arrischianti? Ci potete già dire qualche anticipazione o ancora siete proprio, ancora proiettati solo sullo spettacolo del castello? Dunque, siccome la nostra attività è così continuativa, c'è sempre un occhio verso il futuro. Noi stiamo già facendo lo spettacolo al castello, ma già pensiamo ad esempio a Sartiano Jets & Blues, che ci sarà ad agosto, e subito dopo inizierà la stagione teatrale. La stagione passata è stata una stagione positiva. Noi andiamo a mescolare sia le nostre produzioni che ospitare produzioni di qualità di altri artisti. Anche ben conosciuti, nello scorso anno abbiamo avuto gli omini di Pistoia, ad esempio, che non è così facile. Nel momento in cui decidiamo di aprirci anche ad altri artisti, abbiamo la possibilità di farlo, perché abbiamo la residenza artistica dentro al teatro, e ci apriamo alle residenze creative di altri artisti. Per gli artisti nazionali e internazionali non è facile avere un teatro, e quindi noi abbiamo la possibilità di mettere a loro disposizione un teatro completo, con luci e quintatura, e quindi abbiamo la possibilità anche di ospitarli per i loro primi studi, o per i loro spettacoli. Quindi non sappiamo esattamente cosa ci sarà il prossimo anno ancora, sappiamo sicuramente che avremo lo spettacolo di fine anno, di capodanno, avremo delle produzioni che verranno fuori dai laboratori, ospiteremo degli artisti conosciuti, insomma, non a livello dei grandi teatri che abbiamo intorno, tipo Poliziano o Mascagni, però stiamo riuscendo ad avere un nostro circuito, e dopo il lungo lavoro di fidelizzazione del pubblico abbiamo anche un buon successo. Senti, voi avete molti ragazzi giovani che sono attivi nella vostra compagnia, che cosa ti senti di dire ad un ragazzo che comunque inizia a fare questo tipo di lavoro, che può essere l'attore, il regista, o che comunque ha ambizioni di farlo? Ti senti di dargli un consiglio, magari partendo anche dalla tua esperienza personale? Dunque in questo caso i consigli si danno molto male, perché è sempre molto difficile capire, non ci sono risposte preconfezionate. Io quando mi trovo a lavorare con i ragazzi e ci lavoro a stretto contatto, osservo sempre qual è la loro carica di passione. Se è sufficiente a superare tante delle difficoltà che si troveranno a trovare, allora mi sento anche di incoraggiarli nel fare un lavoro artistico. Il problema è che un artista non lo fa per lavoro, un artista è artista, e quindi sì, è il momento, o anche cresce artista, e quindi qualsiasi cosa andrà a fare successivamente, sarà comunque un artista, avrà bisogno sempre di esprimere la sua carica artistica. Quindi se non è propriamente un lavoro, il lavoro della vita, sarà comunque un hobby fatto con grandissima professionalità, come succede ai nostri attori più di esperienza. Però sì, io consiglio sempre di fare esattamente quello che ci rende felici. In quella maniera si troverà sicuramente il modo per farlo. Grazie Laura, grazie davvero di essere venuta qua a raccontarci un po' di quello che state facendo a Sartiano. So che adesso avete un'altra prova, oppure c'è questo spettacolo. Vissiamo il successo di ieri sera. Allora, ti ringraziamo davvero di essere stata qua con noi, di esserci venuta a trovare all'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile, in Bocca al Lupo, prossimamente ovviamente sulla Valdichiana troverete anche aggiornamenti sulla nuova stagione teatrale. Io vi dico a voi, cari nostri affezionatissimi social aspettatori, di stare lì, cambiamo, non so, facciamo qualche cambiamento e torniamo subito. A tra pochissimo. Di nuovo in diretta dall'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano all'interno della Fortezza di Montepulciano. Cambio di ospiti. Sono venuti a trovarci, nella seconda puntata del Giardino Valdichiana, il presidente di Qualità e Sviluppo Rurale Stefano Biagiotti, buonasera e benvenuto, e il collaboratore di Qualità e Sviluppo Rurale, nonché storico, Filippo Masina. Allora, il nostro programma, il programma dell'estate, ha un po' l'obiettivo appunto di promuovere e tutelare i prodotti tipici del nostro territorio, della Valdichiana. E Stefano Biagiotti ci è venuto un po' a raccontare che cosa, qual è il ruolo della sua associazione all'interno di questo, all'interno del nostro territorio. Sì, Qualità e Sviluppo Rurale è una società pubblica partecipata al 93% dall'Unione dei Comuni e dalla provincia di Siena. Noi ci siamo dati dal 2014 una mission particolare, che è quella di creare politiche di area, politiche che riguardano il settore primario, quindi l'agricoltura, e l'agroalimentare in generale, e la valorizzazione sostenibile del territorio. Tra le nostre attività possiamo ricordare la creazione del marchio territoriale, e il piano d'azione delle energie sostenibili, una prima esperienza a livello territoriale importante, perché riguarda tutte e dieci i comuni che hanno sposato un'unica politica energetico-ambientale. E per finire, l'introduzione all'interno dei prodotti agricoli tradizionali di due prodotti di eccellenza della nostra zona, che sono l'aglione della Valdichiana e la mascina, una lassusina particolare di Montepulciano, la scoscia monaca o la coscia di monaca di Montepulciano. In queste attività di sviluppo territoriale si inserisce anche un progetto che stiamo portando avanti come Qualità di Sviluppo Rurale e due importanti professionisti del nostro territorio, uno che è qui presente, Filippo Masina, l'altro è Alessio Manini, che è un antropologo e che è questa candidatura all'UNESCO di un bene immateriale, che dopo una serie di studi e di concertazione e condivisioni con il territorio è venuto fuori che questo bene immateriale da portare in candidatura è la tradizione dell'appicciare, quindi il piccio come prodotto finito di questa tecnica antica e tradizionale della nostra area. Filippo, tu hai lavorato un po' più nel dettaglio a questa candidatura di questo bene immateriale, e noi siamo abituati a vedere territori o patrimoni comunque a essere candidati all'UNESCO. Come hai lavorato a questa candidatura? Come siete arrivati a tutti gli studi? So che c'è anche un questionario online da riempire proprio per candidare questo bene immateriale all'UNESCO. Parlaci più nel dettaglio di questa candidatura. Sì, buonasera a tutti. La candidatura nasce dall'Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese, che ha poi affidato l'incarico a qualità di sviluppo rurale. la candidatura nasce dal basso, nel senso che l'Unione non aveva già un bene da candidare alla lista dei beni materiali, ma appunto affidato a una società partecipata dall'Unione stessa qualità di sviluppo rurale, l'incarico di fare un lavoro di concertazione sul territorio e poi di studio per individuare la presenza eventualmente di un bene che rispondesse ai criteri richiesti dall'UNESCO. Quindi il lavoro che noi abbiamo fatto è stato di andare sul territorio con una serie di incontri in tutti i Comuni dell'Unione, nei dieci Comuni, tra gennaio e marzo di quest'anno, incontrando in particolare le associazioni attive sul territorio, associazioni di ogni tipo, ceti imprenditoriali, produttivi di ogni settore, per rendere diffuso e condiviso questo progetto di candidatura e tramite dei questionari che abbiamo preparato specificamente raccogliere dei dati che potevano servirci per avere dei campi di studio su cui operare le nostre analisi e quindi alla fine sintetizzare delle proposte di candidatura da fare all'Unione, che poi essendo il committente ovviamente ha avuto l'ultima parola in merito. Fatte queste concertazioni, raccolti i dati, abbiamo cominciato a elaborare alcune proposte di candidatura e alla fine quella che è risultata più solida, più convincente, quella che potrà sicuramente fare un percorso migliore è questa della tradizione dell'appicciare. Quindi come ha anticipato Stefano, non il piscio come prodotto gastronomico finito, ma la tradizione sociale del produrre i pisci non soltanto come tecnica ma più che altro come rito sociale collettivo, che è una tradizione che affonda le radici nella società contadina e mezzadrile che oggi ormai è scomparsa, ma questa tradizione comunque è sopravvissuta, ha cambiato un po' connotati, oggi si esprime molto in ambito familiare e in ambito delle feste popolari. In questo periodo estivo delle feste popolari ce ne sono moltissime, alcune più antiche, comunque più radicate, come la Sagra di Picilicelle sul Rigo che è arrivata quasi alla cinquantesima edizione, altre molto più giovani ma che comunque replicano lo stesso modello. E questo modello di socialità è quello che noi presentiamo all'UNESCO e che abbiamo per adesso proposto al Ministero dei Beni Culturali che è l'istituzione italiana che gestisce le candidature ai beni materiali. Quindi in questo momento la proposta è lì ferma, stiamo attendendo una prima risposta dal Ministero. Ecco, tu hai detto che avete incontrato anche varie associazioni del territorio. Come ha risposto il territorio a questa candidatura? Diciamo che in un periodo storico in cui è difficile ottenere la partecipazione della cittadinanza, quale che sia l'evento, devo dire che complessivamente abbiamo avuto una risposta molto buona. È chiaro che hanno risposto con più entusiasmo e anche più numeri associazioni a carattere culturale ed a carattere folcloristico, tra virgolette, cioè legate alle tradizioni popolari della Valdichiana. Però in generale abbiamo avuto una buona risposta e devo dire che da quando è stata ufficializzata questa candidatura, cioè che è diventato ufficiale, che il bene portato in candidatura è quello della tradizione dell'appicciare, c'è stato un interesse piuttosto esteso, legato soprattutto a questi eventi che ci sono in questa stagione nei vari comuni dove il piscio si fa a mano, quindi proprio seguendo quella ritualità che noi abbiamo messo in evidenza. Quindi la risposta, devo dire, è stata positiva. Adesso, come tu anticipavi, c'è questo questionario online che io invito tutti a compilare, è aperto a tutti, chiunque conosca i pisci, che li faccia o che li mangi soltanto, può fare questo questionario e ci darà una mano a raccogliere dati, a raccogliere informazioni su come questa tradizione viene fruita, oggi non soltanto nelle associazioni, ma dai privati cittadini, dalle persone della Val di Chiana. Stefano, i pisci si sposano bene con l'Aione, infatti i pisci all'Aione è uno dei piatti principi del nostro territorio. La qualità di sviluppo rurale è impegnata anche sul fronte dell'Aione. Recentemente, infatti, è nata un'associazione che tutela e promuove questo prodotto. Chi ne fa parte? Chi può farne parte? E quali sono le azioni messe in campo da questa associazione? Sì, l'Associazione per la tutela e la valorizzazione dell'Aione della Val di Chiana è nata a gennaio di questo anno, quindi del 2017. Ci fanno parte i soci produttori, possono farci parte tutti i soci produttori e alla Costituzione hanno partecipato anche 11 amministrazioni comunali dell'Unione dei Comuni della Val di Chiana Senese e questo ci fa dire che 18 amministrazioni locali sono all'interno dell'associazione e è un progetto che Qualità e Sviluppo Rurale, insieme all'associazione di categoria, ha messo in campo in questo periodo dell'anno scorso e quindi in maniera molto veloce siamo andati alla Costituzione dell'associazione e ha una duplice valenza, quella di tutelare e valorizzare l'aglione come prodotto tipico della nostra zona e un'eccellenza agroalimentare ma soprattutto anche quello di abbattere quelle barriere che sono solo mentali di una provincia che è quella di Siena e la provincia di Arezzo facendo un tutt'uno di quell'area che va da chiusi fino alle porte di Arezzo. È stata una bellissima esperienza, attualmente abbiamo 25 soci produttori e come ho detto 11 amministrazioni comunali più un'unione dei comuni. Che cosa sta facendo? Da quando l'associazione è nata ha già fatto, ha già condiviso, ha già concertato anche con i soci i due disciplinari di produzione, quello nel sistema tradizionale e nel sistema biologico, ha iniziato a fare una ricerca che è già disponibile sul sito dell'associazione aglionevaldichiana.net per quanto riguarda la rintracciabilità dell'aglione e della provenienza dell'aglione, grazie a degli indicatori come il selenio, per esempio si può sapere se proviene da uno dei territori o dei terreni della Valdichiana oppure da altre zone, questa maggior tutela del consumatore. Il progetto futuro dell'associazione e anche per quello che riguarda qualità e sviluppo rurale è di aprire, così come abbiamo già fatto, un dialogo con il Ministero delle politiche agricole ed agroalimentari appunto per poter inserire questa varietà che è Allium Ampeloprasum, varietà Olmense, che non è un aglio e nemmeno un porro, ma è una degenerazione di un porro dal punto di vista genetico, quindi è una varietà, una specie, anzi una specie diversa e cercheremo insieme al Ministero appunto di iscriverlo in questo registro delle varietà da conservazione e sarà un altro passo avanti molto molto importante perché grazie a questa iscrizione grazie a questa iscrizione potremo dimostrare, anzi diventeremo areale di produzione anche per il materiale da propagazione, quindi in tutto il mondo poi l'aglione della Valdichiana verrà solo prodotto in Valdichiana. Allora nel frattempo se sentite qualche strano rumore in sottofondo è perché sta passando proprio qua vicino a noi la banda che sta inaugurando il Cantiere Internazionale d'Arte che come ricordo parte qua questa sera da Piazza Grande. Allora Stefano, Pisci, Aglione, tu hai anche parlato un po' della Susina Coscia di Monaca, quali sono i prossimi progetti su cui lavorerà la società? Quali sono, se già in campo qualche progetto ne avete già parlato? Non so, svelaci qualche altro progetto in più rispetto a Pisci, all'Aione, perché comunque siete ogni tanto veramente siete anche voi una bella realtà in fermento che siete regalati al territorio, state danno al territorio, riscoprite le tradizioni ma non solo dal punto di vista alimentare ma proprio anche dal punto di vista storico, dal punto di vista antropologico. I prossimi lavori che abbiamo messo in cantiere ricordo il piano integrato di filiere insieme al Consorzio del Vino Nobile e ad alcune aziende appunto del Vino Nobile per la creazione di una piattaforma che serva alle aziende per determinare il proprio grado di sostenibilità e stiamo lavorando insieme alle amministrazioni locali per un'idea che ha avuto l'assessore alla cultura del Comune di Torrita, l'Avvocato Tiezzi Maestri e il Sindaco Giacomo Grazi su la creazione di un paniere della Val di Chiana dove il paniere sta a rappresentare il nostro territorio e all'interno di questo inserirci numerosi prodotti agroalimentari che abbiamo nel nostro territorio come per esempio la chianina, la carne di cinta, l'aglione, i vini, il vino nobile, il vinsanto e stiamo lavorando per cercare di inserire all'interno dei prodotti agroalimentari tradizionali il ciambellino bollito di Rigomagno, è una cosa un po' particolare, troviamo dati bibliografici che ci dicono appunto che è oltre 25 anni che questo prodotto è nella nostra area e quindi è anche un modo per valorizzare un prodotto particolare, il ciambellino bollito e anche una parte del nostro territorio che ancora detiene questo prodotto agroalimentare. Filippo quindi c'è tanto da lavorare e ancora tanto da scoprire della Val di Chiana? Sicuramente sì e diciamo che qualità sviluppo rurale posso dire magari che con questo progetto dell'UNESCO sta andando anche verso tematiche meno di scienze dure e più umanistiche che forse possono consentire anche di, come dicevi tu, di capire un po' di più com'è stata la vita in Val di Chiana e di legare determinati prodotti che possono essere agronomici o enogastronomici con la storia e la società presente e passata del territorio. Bene, allora grazie Filippo, grazie Stefano di essere venuti qua a trovarci all'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile. Un altro piccolo stacco, cambiamo gli ospiti che ci sono venuti a trovare e torniamo tra pochissimo. Rimanete con essi sulla Val di Chiana. Ed eccoci tornati qua in diretta dall'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile. Ci è venuta a trovare un altro ospite, ovvero Caterina Dei della Cantina Dei e ci ha portato qua in degustazione il suo vino. Allora Caterina, benvenuta nel nostro programma e posso dire grazie di ospitarci a casa vostra perché comunque l'Enoliteca è casa vostra. Allora, prima di andare a parlare dell'Enoliteca, la Cantina Dei. La Cantina Dei rispetta il territorio e la passione per il vino e è unito da uno spirito imprenditoriale che fonda le sue radici nella lavorazione del travertino. Ci racconti la storia della cantina e dove, in quale parte del territorio di Montepulciano sorge questa cantina? La storia della nostra azienda è fortemente legata alla storia della mia famiglia. Mio nonno Alibrando, il papà del mio papà, o anzi babbo perché qua siamo toscani, e toscanissimo dalla zona di Rapolano dove appunto abbiamo le cave di travertino si è spostato spesso e volentieri nell'arco della sua vita qua a Montepulciano ritenendolo un grande territorio. Si è innamorato a tal punto del paesaggio di questa zona che ha intravisto in una proprietà che è Martiena, dove adesso è la sede dell'azienda, il luogo dove trascorrere le vacanze estive. E naturalmente, pensando che il territorio fosse anche appunto estremamente evocato alla produzione di vino, quindi ha intravisto la ricchezza complessiva di questo territorio. E quindi parliamo degli anni Sessanta, il nonno ha cominciato a frequentare Montepulciano. Ha piantato un bellissimo vigneto, che è Bossona, dal quale adesso facciamo il nostro cru, il nostro vino nobile in Bossona, che è un San Giovese al 100%. E da qui ha inizio la nostra storia. Quindi, agli inizi, il nonno e conseguentemente tutta la famiglia, io ho ricordi bellissimi da bambina, in cui appunto passavo l'estate a Montepulciano. Avevamo all'epoca una parte dei vigneti, che facevano parte appunto della proprietà che il nonno aveva comprato, Martiena, e più Bossona, che aveva già piantato lui. Che producevano uve molto buone, però per una serie di anni queste uve sono state vendute, perché in realtà la famiglia non pensava ancora di diventare produttrice di vino. Fino a che mio babbo, molti anni dopo, ha pensato bene, da queste uve straordinarie, di cominciare a produrre un po' di vino per la famiglia, per la famiglia e per gli amici. Senza che avessimo nessuna struttura particolare in quanto a cantina o zona di vinificazione. Per cui iniziamo a fare una botte di vino nobile di Montepulciano, parliamo del 1985, prendendo in affitto per qualche periodo una cantina nel centro storico di Montepulciano, nel Palazzo Bologna, dove adesso tra l'altro c'è una spa molto bella. Quello fu l'inizio della nostra produzione, per cui in via sperimentale producemmo lì, in questa cantina, una botte di vino nobile, senza appunto avere strutture particolari, senza certamente la presenza di nessun consulente specifico, nessun enologo, ma questo 1985 fu una vendemmia talmente straordinaria, questa unica botte di vino nobile prodotta, fu talmente straordinario che mio padre poi ebbe veramente la spinta, quindi l'input a cominciare a pensare a produrre del vino nobile. E negli anni successivi, parliamo della fine degli anni Ottanta, ha cominciato a costruire le attuali cantine di Via di Martiena, quindi cominciando dalla vinificazione, piano piano anche dal Parco Botti. nel tempo, negli anni, tutta la famiglia si è talmente appassionata, quindi non solo al territorio di Montepulciano, ma proprio al vino, al suo vino in maniera specifica, che quello che era il nostro luogo dell'estate è diventato il nostro luogo abituale, dove adesso io vivo da 25 anni, occupandomi a pieno ritmo dell'azienda e insieme ancora alla mia famiglia. Naturalmente, ecco, nel frattempo, questo amore per il territorio e per i vini ci ha poi portati a piantare altri vigneti, quindi ad acquisire altre zone per la produzione di vino nobile. e recentemente mio padre ha voluto anche fare lui, disegnare, ha pensato, ha costruito insieme all'architetto Magnoli di Siena questa cantina sotterranea, sempre nei locali di Via di Martiena, proprio con la sua pietra, no? Come prima giustamente hai detto, la famiglia nasce come nella zona del Travertino e quindi questa è stata da sempre la nostra occupazione. Mio padre a un certo punto ha pensato di voler dare al suo vino una casa fatta di travertino e quindi, ecco, sono iniziati i lavori per realizzare quella che è adesso la nostra cantina che è abbastanza particolare, tutta sotterranea ed è un po' un anfiteatro all'esterno. Ecco, lì ci sono appunto le cantine di invecchiamento e di affinamento ed anche all'esterno, appunto, questa zona molto aperta che ricorda proprio un anfiteatro e siccome io sono molto amante dell'arte e della musica in particolare sto pensando che mi piacerebbe molto, ecco, pensare al vino insieme alla cultura, pensare il vino insieme all'arte e alla musica. Quindi vorrei che questo fosse anche un luogo destinato un po' alla cultura. Come del resto succede a Montepulciano, che è questo nostro meraviglioso territorio per il vino, per il paesaggio, per l'architettura, per l'arte e a proposito inizia oggi proprio il cantiere d'arte e quindi, ecco, avremo, come avete già detto, una serie di appuntamenti di altissimo livello, no? Per quanto riguarda la musica e il teatro. Ecco, quindi... Allora, quindi voi mantenete intatta la tradizione ma comunque proiettandosi nella contemporaneità. Vogliamo parlare un po' del prodotto? Che vino è il vostro vino? Con che potrebbe essere abbinato? Quali sono i sentori del vostro vino? Abbiamo fin dall'inizio puntato alla valorizzazione degli autotoni, quindi parliamo di Sangiovese, parliamo di Prugnolo Gentile e il Nobile è composto in massima parte, diciamo, dal Prugnolo Gentile con piccole percentuali di vitigni complementari, in particolare il Canaiolo, che è un altro vitigno autottono. Pratichiamo noi un'agricoltura sostenibile, ci tengo a dirlo perché è un po' la nostra, diciamo, ecco, il nostro punto adesso centrale, lavorare in questo senso, per cui un'agricoltura sostenibile sia in vigna che in cantina. Praticamente abbiamo abolito l'utilizzo dei pesticidi, facciamo uso di rame e zolfo e facciamo molta attenzione alle particolari, specifiche esigenze di ogni singolo vigneto. Abbiamo cinque zone di vigneto diverse per composizione del terreno, per altitudine, per esposizione, quindi, ecco, è cura dell'enologo far sì che da ogni singolo vigneto si ottenga il massimo e questo naturalmente con la massima cura. Ecco, quindi molta mano d'opera e molte attenzioni, facciamo sovesci e quindi piantiamo a seconda della tipologia di terreno delle essenze specifiche per nutrire i singoli terreni e per far sì che dalla radice alla chioma la vite sia in salute il più possibile per arrivare a vendemmia con un'uva sana e matura al punto giusto, appunto. Ecco, io vorrei rimanere ancora sulla sua cantina ma facendo un po' riferimento a quanto hai detto prima del discorso della cultura che ha un po' un progetto di organizzarci degli eventi, quindi io andrei a approfondire un po' di più questo aspetto perché io so che comunque già organizza dei concerti di musica ma anche tenendo conto anche della sua carriera insomma da musicista. Quali sono o quali potrebbero essere i prossimi eventi che ospiterà o che vorrà ospitare? Questi sono da progettare perché io ho molti desideri appunto proprio nel senso della sinergia del vino rispetto all'arte ecco, però c'è un qualcosa da costruire ancora quindi abbiamo fatto delle piccole cose anche in collaborazione un po' con la fondazione Cantiere l'anno scorso abbiamo fatto in bottaglia un piccolo concerto con flauto e arpa e poi a me piace cantare quindi io ho un mio gruppo e ogni tanto facciamo facciamo della musica organizzo quello che chiamo degustazione musicale ecco quindi la musica è un po' sempre presente la porto con me però ecco c'è da programmare adesso non le so dire in questo momento qual è il prossimo evento specifico ecco sto pensando per calici di stelle magari di fare qualcosa che ci siamo vicini però non è ancora del tutto definito sicuramente ci saranno i calici sicuramente e magari un po' di musica di sottofondo per il prossimo evento specifico poi ad un'altra data magari avremo notizie più precise più certe sì io in entrata presentandolo ho detto che siamo un po' a casa vostra qua all'Enoliteca no? perché è stata concepita questa Enoliteca qual è il ruolo dell'Enoliteca? è un ruolo fondamentale per Montepulciano Montepulciano è una zona di grandissimo prestigio di una storia veramente che si perde nei secoli oltre ad essere una città splendida piena appunto di arte di architettura tutti la conoscono come la perla del Cinquecento no? questa perla del Cinquecento credo che veramente abbia bisogno di essere valorizzata al massimo e la fortezza con il suo interno questa Enoliteca credo che sia il luogo straordinario dove appunto promuovere la cultura e il vino dentro alla cultura quindi credo che chiunque passi non solo in zona ma insomma chiunque arrivi in Toscana debba veramente venire a vedere l'Enoliteca ma per assaggiare poi gli splendidi vini di Montepulciano perché l'Enoliteca poi ha nella sua vetrina e in assaggio praticamente moltissimi vini quindi credo che sia una una tappa assolutamente da non perdere per il visitatore che viene in provincia di Siena in particolare appunto in questa zona magnifica tra la Val d'Orce e la Val di Chiana quindi non perdetevi l'Enoliteca abbiamo un pavimento che è un qualcosa di veramente prezioso che ecco è stare seduti qui e vedere sotto il vetro questa questa meraviglia di antichità credo che insomma sia un qualcosa di veramente speciale sì assolutamente unico quindi ecco questo è il luogo deputato per far apprezzare la ricchezza di Montepulciano in tutti i suoi aspetti appunto dalla cultura all'arte all'architettura al vino rimaniamo un attimo sul vino di Montepulciano quali sono secondo il tuo punto di vista i punti di forza ma anche i punti critici del vino i punti di forza sono ecco quello che è la realtà del vino che negli ultimi 15 anni credo che qualitativamente abbia fatto dei passi importantissimi perché ci sono molte aziende anche giovani aziende anche piccoline che stanno lavorando molto bene e credo che la qualità del prodotto sia veramente di ottimo livello e con questa sede con il lavoro che fa il consorzio penso che stiamo veramente stiamo raggiungendo dei risultati importanti e peraltro però credo che ci sia ancora molto da lavorare proprio perché abbiamo bisogno di essere valorizzati e di essere riconosciuti anche come denominazione come come il territorio si merita ecco quindi in questo senso credo che ci sia da fare un lavoro di comunicazione molto mirata molto specifica un marketing molto molto appunto preciso per far sì che emerga in tutta la sua bellezza il territorio di Montepulciano ecco ripeto non abbiamo nulla da creare o da inventare dobbiamo solo far sì che tutto quello che di bello che veramente parte da una storia molto antica fino ad arrivare alla denominazione importante dei nostri giorni che di tutto questo non solo non si è perso niente ma che sia veramente valorizzato ogni ogni singola ecco ogni singolo aspetto di tutto questo allora io prima di salutarti e ringraziarti adesso c'è dobbiamo fare un brindisi con il tuo vino e mi dovrai dire proprio in chiusura tre parole per definire il tuo vino un goccio di nobile secondo me va sempre bene anche con queste temperature esterne piuttosto alte no perché l'eleganza di questo vino la sua ecco diciamo il suo essere tra virgolette amabile non nel senso appunto della dolcezza del contenuto zuccherino ma amabile proprio perché credo che sia un vino che accarezza il palato con i suoi sentori di frutta matura di ciliegia di prugna e che appunto pensando al prugnolo gentile è un vino nobile sua dente e gentile e con queste parole io ringrazio Caterina Dei che ci è venuta qua a salutare la ringrazio ancora una volta per ospitarci non andate via rimanete lì per l'ultimo blocco di trasmissione a tra pochissimo ed eccoci di nuovo qua in diretta per l'ultimo blocco di trasmissione all'interno dell'enoliteca del Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano purtroppo oggi dobbiamo non possiamo esimerci da parlare di quello che è accaduto nella nostra nella nostra comunità perché quando succede un fatto di un caso di femminicidio a farne le spese è tutta tutta la comunità non solo chi è rimasto ucciso e chi ha ucciso purtroppo quest'anno siamo già un numero a tre cifre per quanto riguarda le donne uccise per chi non lo sapesse ma penso che a questo punto tutti sanno che qua a Montepulciano è accaduto questa notte una donna è stata uccisa per mano del suo compagno qua con noi sono venute per parlare dell'argomento del delicato argomento la presidente dell'associazione amica donna Assunta Bigelli due operatrici Lucia Ferilli e Carlotta Cosimini un centro antiviolenza attivo in tutto in tutto il territorio copre tutto il territorio della Val di Chiana prima però noi in realtà avevamo fatto un'altra un'altra scaletta oggi ovvero quello di parlare delle azioni che attuava il centro antiviolenza qua in Val di Chiana però purtroppo dobbiamo fare i conti con quello che è successo oggi Assunta tu nel tuo ruolo di presidente come commenti quello che è successo nella nostra comunità che ha sconvolto tutta la comunità e possiamo dire tutta l'Italia non è facile non è facile parlarne poi così a freddo noi siamo consapevoli perché lavoriamo direttamente con le donne e sentiamo tutti i giorni fatti che comunque sono molto gravi tutti i giorni cerchiamo di di spenderci al meglio proprio per dare delle indicazioni alle donne per non mettersi in pericolo lavoriamo in rete in rete con tutti gli operatori del territorio proprio perché il fenomeno è trasversale e prende più campi lavorare insieme ci aiuta a dare risposte più diciamo più sollecite e più mirate ai bisogni della donna rimango su di te per capire che cos'è che cos'è che nasce da dove nasce tutta questa violenza nei confronti di una donna la violenza come dicevo è un problema socio-culturale per cui dipende da ciò che pensa che pensa un certo tipo di mentalità proprio sul ruolo della donna sul sul non diciamo una diversità di potere una diversità di diritti per cui il diciamo questo tipo di violenza è il finale di tutta una serie di violenze che ha subito una donna all'interno della relazione magari anni e anni di violenze prima psicologiche poi fisiche alla fine lui l'uomo decide di uccidere la donna perché crede che la donna sia di suo possesso e possa farne ciò che vuole Lucia tu sei un'operatrice quando una donna arriva da voi chiedendovi aiuto che cosa qual è il percorso che inizia dunque il percorso che la donna inizia con noi è un percorso di consapevolezza rispetto al vissuto che sta che sta sperimentando e non è un un percorso facile non è un percorso facile perché comporta riappropriarsi della propria vita e lei durante l'esperienza di violenza ha progressivamente abdicato proprio il proprio punto di vista ma non basta a questo c'è tutta la parte sulla protezione che oggi è quanto mai attuale perché è importante che la donna impari a proteggersi e di solito questa parte si attiva soprattutto nei riguardi dei figli più che verso se stessa mentre la consapevolezza la rende anche più consapevole di doversi proteggere quest'anno il centro antiviolenza ha preso in carico 56 donne allora questo dato può essere letto sotto vari punti di vista il primo può essere che una donna prende più consapevolezza e quindi trova più coraggio nel denunciare questo fatto rispetto agli anni passati noi abbiamo notato che c'è stato un incremento di accessi al centro dovuti al dovuti proprio alla grande sensibilizzazione di questo periodo c'è da dire che è anche una risposta migliore del territorio che sicuramente può migliorare l'episodio purtroppo della morte di ieri ce lo conferma ma che questo territorio sta dando come tutta la provincia di Siena insomma abbiamo un incremento un po' in generale quali sono le personalità che una donna trova all'interno del centro antiviolenza ci sono psicologi ci sono medici quali sono le persone pronte ad aiutare le donne che chiedono il vostro aiuto per prima cosa ci sono le operatrici operatrici di ascolto sono formate esclusivamente sulla violenza operatrici esperte sull'accoglienza telefonica perché un primo contatto viene attraverso il telefono e dopodiché gli viene confermato un appuntamento nel nostro centro poi in base ai bisogni della donna possiamo dare alla donna una consulenza psicologica e una consulenza legale principalmente comunque le figure del centro antiviolenza sono operatrici di ascolto formate e in continua formazione abbiamo detto che le donne denunciano un po' di più questi aspetti perché in passato che cos'è che non fa denunciare l'atto di violenza alle donne è una fortuna che denunciano di più e probabilmente uno dei motivi è che le nuove leggi e i nuovi provvedimenti del governo possono aiutare a sentirsi più sicure quando denunciano anche se bisogna notare che in effetti nel percorso della donna la denuncia arriva quasi sempre perché è inevitabile quasi sempre perché la donna ha perso la sensazione della sicurezza e quindi fra virgolette non ha più niente da perdere perché la realtà è che poi il percorso dalla denuncia all'ottenimento di un provvedimento o che comunque un provvedimento che aiuti nel senso del dare dare ragione ai motivi della donna è lungo è molto lungo e anche molto faticoso perché ancora probabilmente la nostra rete è da come si può dire da rodare in una maniera più approfondita perché noi facciamo un lavoro e contiamo sull'aiuto di una rete che è composta dai servizi sociali dalle forze dell'ordine da diverse entità però qualche volta qualche dente di questa di questa catena probabilmente non è così forte non è soprattutto così formato sulle specifiche della violenza di genere che non è una violenza comune insomma questo ecco tu parlavi dei vari provvedimenti messi in campo dallo Stato indubbiamente c'è da fare qualcosa in più che cosa che cosa manca per cercare di tutelare al meglio queste donne perché molto spesso si legge che sì le donne denunciano ma non vengono protette come si deve secondo il vostro punto di vista che cos'è che può essere fatto ancora è uno degli stereotipi contro cui combattiamo è la diminuzione che queste donne hanno ossia la non presa in considerazione di tutti gli eventi che portano la donna alla denuncia la loro assegnalazione oppure una richiesta di aiuto oppure fino appunto alla denuncia che in realtà non è non ha un seguito come lo dovrebbe avere perché la legge c'è però un provvedimento che deve essere preso in 30 giorni magari deve essere sollecitato dopo i 6 mesi e sollecitato dopo gli 8 è chiaro che in questo frangente in questo lasso di tempo purtroppo i femminicidi veramente i numeri sono spaventosi per un piccolo stato come l'Italia e non che in altri stati siano migliori anzi però senz'altro la sicurezza nel tempo si perde se la donna ha investito tantissimo nella denuncia nel giro di 6 mesi può senz'altro tornare indietro grazie a Dio formalmente non più però psicologicamente è una persona distrutta che la cosa più importante è credere alla donna che è un principio che per noi è fondamentale è un principio sul quale non transingiamo come non transingiamo sull'anonimato sulla riservatezza e anche perché gli scogli che indicava Carlotta tra questi scogli c'è per esempio la perdita frequente del lavoro durante il percorso d'uscita dalla violenza quindi non solo deve fronteggiare il maltrattante e la violenza che lui agisce ma deve anche affrontare delle difficoltà concrete perché la violenza che subisce comporta anche spesso la perdita del lavoro e quindi delle risorse economiche che invece sono fondamentali quindi un motivo in più perché la donna magari dice ok non denuncio perché rischio che ho addirittura che torni con lui volevi anche tu aggiungere qualcosa su questa allora tu hai parlato appunto del rispetto della privacy e mi rendo conto che parlare di questo argomento non è sempre semplice ci sono dei termini che a volte sfuggono a volte vengono usati impropriamente quanto è importante la comunicazione in questo in questo settore è fondamentale è fondamentale parlare di violenza in modo corretto è fondamentale perché serve innanzitutto a capire di che cosa stiamo parlando Michela Murgia ha usato una frase per indicare che cos'è un femicidio no? o un femminicidio spesso si dice è un uomo che uccide una donna non è indicato il sesso di chi agisce violenza contro chi subisce violenza in realtà è indicata la ragione per cui viene fatto e cioè viene uccisa una donna perché donna perché non ha incarnato quegli stereotipi di genere che la condannano ad essere discriminata nei suoi diritti quindi partire da questa lettura della violenza quindi non parliamo di tutta la violenza in generale ma parliamo della violenza sessista della violenza di genere già ci dice come affrontarla infatti la formazione dei soggetti della rete è uno dei punti centrali della convenzione di Istanbul che è sicuramente la legge più importante di riferimento che abbiamo in materia una legge ahimè poco conosciuta e poco applicata e tra l'altro un grande ruolo lo svolgete voi dei mass media noi sì effettivamente noi con la Valdichiana abbiamo cercato di parlare proprio al territorio proprio per cercare di tutelare quello che per evitare anche quello che è successo oggi un'ultima domanda e poi andiamo a chiudere come formate le operatrici che vogliono far parte e come si può diventare operatrici allora operatrici si diventa attraverso un corso viene fatto un primo corso per volontarie dove viene spiegato non solo il ruolo del centro antiviolenza anche tutto il lavoro che fa e la metodologia la nostra metodologia è una metodologia che viene tramandata da centri dai centri di tutta Italia difatti noi facciamo parte del coordinamento dove ci sono 70 o 72 centri centri antiviolenza uniti e dove si incontrano e si diciamo condividono le buone pratiche dopodiché le volontarie che vogliono rimanere all'interno dell'associazione fanno un tirocinio vengono affiancate da operatrici esperte e fanno un tirocinio almeno di 10 mesi un anno dopodiché in base a ciò in cui si ritengono più portate si occupano perché allora noi non solo facciamo ascolto e accoglienza con le donne che si diciamo si riconoscono subire violenza e facciamo sensibilizzazione e facciamo ricerca fondi proprio per perché siamo un'associazione di volontariato i fondi sono sempre pochissimi per cui siamo sempre alla ricerca di fondi e poi tante altre azioni attività una delle attività che vogliamo intraprendere sono dei percorsi con le donne che vengono da noi fare proprio dei gruppi di autoaiuto e creare questi gruppi in modo tale che le donne si rafforzano riconoscendosi nelle storie delle altre e colgo l'occasione di dire che a fine estate faremo un corso tra ottobre e novembre per cui sicuramente se ci aiuterete a pubblicizzarlo perché ci occorrono veramente forze perché siamo poche siamo pochissime e il lavoro sta aumentando allora io ringrazio Assunta Carlotta e Lucia per esserci venute qua a trovare oggi in questa giornata non è mai semplice parlare di violenza poi soprattutto oggi con quello che è accaduto è ancora più difficile vi ringrazio davvero tanto di essere venute qua io saluto i nostri spettatori vi do appuntamento a venerdì prossimo sempre qua dall'Enoliteca del Consorzio del Vino Nobile magari anche per un brindisi e state ancora connessi con la Valdichiana seguite tutti i nostri aggiornamenti e grazie di essere stati con noi grazie a tutti i nostri spettatori